Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla VPL per lavori ci sono rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e sullo stesso tratto ci sono anche rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione mare. Su raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle è chiuso lo svincolo di Colonna del Grillo in entrata e uscita in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto chiuso il tratto all'altezza dello svincolo di Campagnatico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.